combinazione e la riproduzione questa cosa ho messo che la voce ha fatto una volta mi pare si ha messo di si granata mini granata granata incendiaria granata impatto quasi 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 la prendiamo granata impatto ma si dai to ok cartella e bastone la pala i nemici mi diventa 25 minuti di tempo in più soppiatto il suono dei tuoi passi è quasi quasi no però aspetta generazione rapida la metto copertura cazzo è il fuoco di soppressione subito è ridotto del 25% minca già mi fanno fuori così che penso ok l'ho preso figa controlliamo tutti gli obiettivi dai la madonna ecco l'altro mi ha preso minca oh non faccio in tempo a sparare a uno che l'altro mi prende figa abbiamo perso il 25% abbiamo perso il 25% alfa ho fatto la merda ho fatto la merda Tanis Controlliamo tutti gli obiettivi Ok Allora aspetta però No Ah si Otti cara qua Figa Ma non posso cambiare un cazzo in quell'armi qua di merda Aspetta eh Ah 100 munizioni Questo ha Tutti 30 Potta provare questo qua Perché non me lo dai Ecco Dio santo Vabbè partire dall'altra parte Mi hanno rotto i coglioni Turna Abbiamo conquistato l'obiettivo bravo Granata Granata è razza Non va bene dai Non va bene quel cazzo di mirino lì Non va mia bene Come fai Dai Dai Amo turno Allora 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 Stiamo perdendo l'obiettivo bravo Ok Allora 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 Cambiamo Facciamo Così Ci riprendiamo il nostro Perché è per mia tribù La Così Sì Calzando Figa Ragazzi Che roba Dopo Sono live Allora Porco Giuda è L'ho visto dopo L'ho visto dopo Abbiamo perso l'obiettivo Charlie Fabbiamo ambientale qua Abbiamo conquistato l'obiettivo bravo Abbiamo perso l'obiettivo bravo Abbiamo perso l'obiettivo Alfa Il nemico controlla tutti gli obiettivi Non Scano Gli Siamo a metà. Il nemico è in vantaggio. Andiamo conquistando l'obiettivo Charlie. Sono troppo poche le munizioni. Trenta. Siamo. 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 per che roba hai visto che roba se io volevo se io avevo il mitraglione di okane non veniva gioco lì ma che bello con la pioggia abbiamo perso l'obiettivo alfa camper atto si tutta nascosto si nascondono ma cazzo faranno giocare così ma nessuno mezz'ora di partita fanno tre il perché stanno camperati aspettare con le quali che passo si muove con me abbiamo conquistato l'obiettivo alfa qua figa che faccio fatica a salire stiamo perdendo l'obiettivo alfa stiamo perdendo l'obiettivo alfa senza copertura abbiamo perso l'obiettivo alfa sconfitta eh vabbè comunque dai non ma non ma